Un caro saluto da Diego Fusano, un caro saluto a tutti. C'è una novità che riguarda le proteste crescenti in Italia a sostegno del popolo palestinese e delle sue ragioni. Come sapete il popolo palestinese viene considerato e trattato come se non avesse diritti e più in generale quello che viene celebrato come il diritto di Israele di difendersi, trapassa senza soluzione di continuità nel diritto di Israele di fare sostanzialmente tutto ciò che vuole con l'appoggio, la connivenza o anche semplicemente il silenzio molto spesso della cosiddetta comunità internazionale che è in realtà un diverso nome per dire l'Occidente liberale atlantista. Ebbene vengono trattati i palestinesi alla stregua di terroristi come se tutti, donne, bambini, anziani fossero terroristi e dunque come se la lotta al terrorismo potesse impunemente colpire e indistintamente colpire tutti donne, uomini, anziani, bambini senza differenziazioni di alcun tipo. Ebbene ci sono delle proteste che in tutta Italia stanno mobilitandosi, stanno crescendo e che coinvolgono anche, questo è l'aspetto più interessante, i più giovani, le generazioni che nel tempo dell'emergenza epidemica sono state colpevolmente in silenzio subendo tutto e di tutto. Adesso stanno invece finalmente tornando a prendere la parola e tra le proteste si segnala quella del liceo Vico di Napoli, quindi liceali, molto giovani e non di meno coraggiosamente in prima linea nel prendere posizione, il liceo Vico di Napoli è stato occupato in difesa delle ragioni del popolo palestinese e della richiesta di un cessate il fuoco. Una buona notizia che ci segnala per così dire come non tutto si è perduto presso le nuove generazioni che sembrano ancora mantenere desto il segno, il sogno e il segno di desideri di migliori libertà e di un mondo altrimenti strutturato.